Tatiana Melis e Daniela Circhirillo, naturopate, saranno le protagoniste della prossima puntata di Essere Benessere, l'etica del vivere, nel corso della quale si parlerà di astrologia e di anima delle piante. La trasmissione, assolutamente da non perdere, andrà in onda sabato 25 febbraio alle ore 21 su Telecolor, canale 17 del Digitale Terrestre. Oppure sarà visibile in diretta streaming collegandosi a www.telecolor.net o in diretta Facebook su Telecolor Green Team.